È ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione del San Bortolo di Vicenza lo scooterista che oggi è stato protagonista di un terribile incidente stradale a Molvena nel comune di Colceresa. Erano da poco passate le 13 quando il 54enne del posto a bordo del suo scooter transitando lungo via Roma è andato a sbattere violentemente contro un Iveco Daily guidato da un cittadino extracomunitario. Un frontale che lo ha fatto balzare all'indietro per una decina di metri e che ha visto l'intervento urgente dell'elicottero del suo M118 che ha provveduto a trasportarlo all'ospedale di Vicenza. Illeso il conducente del camioncino sul posto per il rilieve di rito i carabinieri del comando compagnia di Bassano impegnati a ricostruire la dinamica.